Ragazzi, ho messo la cravatta, visto? Ti piace? Non va così, è così certa. Scusa, chi l'ha detto dove sta scritto che il nodo alla cravatta bisogna per forza farlo al collo? L'hai fatto al... Io ho anche fatto il nodo più stretto che mi fa bene alla postura. Cravatta penica si chiama, la usano certi popoli. Io non ho paura anche di parlare, capisci? Che bella l'idea, la cravatta al contrario. Cioè, sembra stronzata, magari quando io uscirò da LOL, tutti metteranno la cravatta con il nodo fatto non al collo. Michele, se iniziamo così, che tu fai, prendi l'attenzione, giri, così, io sto male. Il mago attacca, maledettamente attacca sempre. Sto male! Ecco così, volevo dirlo.